webinar della Semina, un altro della serie dedicata agli Stati Uniti e tutte le influenze che gli eventi storici importanti in quel paese hanno, hanno avuto e hanno ancora nel nostro paese. Non sarebbe nemmeno il caso di discutere, nel senso che veramente sono la guida del mondo occidentale, ancora e ancora per molto tempo. E l'ospite di oggi, che ha seguito il professor Marco Sioli qualche settimana fa, è il professor Marcus Rediker, con questa storia, il piantagrane, che è una storia affascinante, suggestiva, dedicata a quello che è stato forse il primo attivista per la causa della schiavitù, o contro la schiavitù ovviamente, nella storia degli Stati Uniti. Una storia affascinante, interessante, e lascio ora la parola al professor Marcus Rediker, che parlerà in inglese ovviamente, però avremo la traduzione di Camilla Marucco, che ringrazio ancora per questo preziosissimo aiuto. E poi naturalmente dopo la sua presentazione ci sarà spazio ampio per chi volesse fare commenti, domande o considerazioni di ogni genere. Prof. Rediker, se volete, puoi iniziare. Ok, grazie. I voglio iniziare a ringrazio Stefano e Marco per l'invitation, e special thanks a Camilla per fare tutto possibile per la traduzione. You know, I was supposed to be in Italy last May to give a series of lectures, and it broke my heart that the coronavirus made that impossible, but I hope to be back visiting as soon as I as soon as possible. Sorry mate, I can translate this. Buonasera a tutti, sono il professor Rediker, sono molto felice di essere qui e vorrei ringraziare in particolare la seminar, Stefano Covino per aver organizzato questo webinar, e Camilla Marucco per rendere possibile la traduzione. Avrei dovuto visitare da maggio scorso l'Italia, ma ha spezzato il mio cuore il fatto che a causa della pandemia Corona non ho potuto farlo e spero di tornare in Italia presto. Ok, so, I want to talk to you today about this man named Benjamin Lay. I'm sure that most people in Italy have never heard of him, but it's also true that most people in America had never heard of him until very recently. Ok, oggi vorrei parlarvi di quest'uomo, Benjamin Lay, ed è molto probabile che in Italia nessuno abbia mai sentito parlare di lui, ma devo dire che anche in America pochissimi hanno sentito parlare di lui, almeno fino ai tempi recenti. I think he might be one of the most interesting historical figures you have never heard of. Io penso che possa essere una delle figure storiche più interessanti di cui abbiate mai in Italia. So, let me introduce you to Benjamin Lay by describing an event that he was involved in. This took place in Burlington, New Jersey, in the American colony of New Jersey in 1738. Benjamin Lay was a Quaker, which is a Protestant group and quite a radical Protestant group, and he went to attend the big annual meeting of several hundred Quakers in New Jersey. Okay, now you need to know that at this moment in time, many wealthy Quakers own slaves, and Benjamin Lay was very upset about this. Dovete sapere che a questo punto nella storia, molti dei quaccheri più benestanti possedevano schiavi, e Benjamin Lay era sconvolto, disturbato da questo fatto. So, to go to this meeting with hundreds of Quakers, he puts on a military uniform and buckles a sword at his waist. And this is unusual because Quakers are pacifists. He also took an animal bladder and filled it up with bright red berry juice. Then he tied it off and put it inside a book that had a secret compartment and closed the book. Portò con sé anche la vescica di un animale riempita di bacche rosse e ficcò questa vescica dentro a un buco che aveva scavato all'interno di un libro e chiuse il libro e se lo mise sotto l'uniforme. e lo nasconde sotto un grande mantello che nasconde anche la spada e l'uniforme così che nessuno riesca a vedere nulla di queste cose. Then he goes inside and he sits next to all of the wealthy Quaker slave owners. Così vestito entra nell'assemblea e si siede accanto a due dei ricchi, dei benestanti proprietari di schiavi. At a certain point in the meeting Benjamin stands up and in a loud voice he says slave owning is the greatest sin in the world. Then he throws off the overcoat and the crowd gasps. Then he takes the sword out of his waist and he holds the book above his head and then he says God will take vengeance against those who oppress their fellow creatures, meaning slaves. Then he runs the sword through the book and the blood from the animal bladder comes streaming down his arm and then he sprinkles the blood on the slave owners nearby. e quindi trafisse con la spada il libro in profondità e il sangue cominciò a colare sul suo braccio. Dopodiché lui cominciò a spruzzare questo sangue sulle teste e sui corpi delle persone presenti che erano proprietari di schiavi. Total pandemonium breaks loose in the meeting. Una confusione completa, un pandemonio iniziò nell'assemblea. And Benjamin just stands there as still as a statue with the blood dripping down his arm. In questo pandemonium Benjamin rimase fermo come una statua con il sangue che colava sul suo braccio. So a bunch of Quaker men pick him up and they take him and they throw him out the door into the street. Un gruppetto di uomini quaccheri andò a prenderlo, lo afferrò e lo trasportò allo gettò fuori dall'assemblea sulla strada. Ok, so Benjamin Lay used what I call guerrilla theater to dramatize his ideas in opposition to slavery. He was one of the first people in world history to demand the total abolition of slavery, the total emancipation of all enslaved people all around the globe. So one of the questions that I wanted to answer in this book is this. Benjamin Lay was an ordinary working man. He was not an elite in any sense. How did he break through to a more humane vision of the future demanding freedom. what was it about him that allowed him to do that at a time when most people, certainly most people of European descent, considered slavery to be completely natural and legitimate as an institution. So the question I try to answer in my book is Benjamin Lay was an ordinary person, common man who worked normally and was not absolutely an elite person. So what I want to tell you about Benjamin Lay is that he was not an elite person. He was not an elite person. So what I want to tell you about Benjamin Lay is that he was not an elite person. not only one of the first abolitionists, he was a revolutionary abolitionist because he imagined a completely different way for people to live in freedom. 280 years ago, Benjamin Lay was a vegetarian, an advocate for the rights of animals, opposed to the death penalty, and also made all of his own food and clothes. 280 years ago, Benjamin Lay was a vegetarian. He fought for the rights of animals, was against death, and also produced most of his habits. He also had a critique of people who damaged the environment. one of the things he said was, beware of rich men who poisoned the earth for gain, or for money. So the big question is, how did he break through? How was he able to express ideas that very few other people had? And secondly, why is he unknown? Those are the two main questions from our talk today. So the question is, how did he be able to express ideas that were not affirmed at the time? And how did he remain known? So the two questions are, how did he be able to express ideas that were not to be able to express ideas? Okay, so let me give you a brief summary of Benjamin Lay's life, and then we'll get into why he was able to develop these very radical ideas so far ahead of his time. Okay, so, by the way, the art on the cover of this book is done by the Italian artist Marco Lorenzetti, thanks to him. And that image is based on a real painting of Benjamin Lay that was done in his lifetime. So, one of the first things I need to tell you is that he had dwarfism. He also had a curvature of his back. He was what we call a hunchback. So, I would say that the illustration on the cover of the Italian artist Marco Lorenzetti, thank you for this. The illustration on the cover of the cover is based on a real painting, a real painting that was made during the life of Benjamin Lay. Okay, Benjamin Lay was born in 1682 into a Quaker family, a humble family of farmers not far from London. Benjamin Lay nacque nel 1682 in una famiglia quackera, in una famiglia umile di contadini non lontana da Londra. In his early life, he worked as a shepherd herding sheep. But when he became 21 years old, he ran away to London and became a sailor. Da giovane lavorò come pastore, prendendo sicura dei greggi di pecore, ma a 21 anni fuggì a Londra per iniziare a lavorare come marinaio. In 1718, he married a woman named Sarah Smith. She was also a little person and a hunchback, and they moved to the Caribbean island of Barbados. In 1718, Benjamin sposò Sarah Smith. Anche lei era una little person, cioè una persona nana, con una gobba, e insieme si trasferirono nei Carabbi, alle Barbados. I'm going to say more about Barbados in a moment, but this is where he was radicalized against slavery, because Barbados was probably the leading slave society in the world at that time. He then, after two years, he went back to London, he then went back to a city called Colchester, near where he was born. And in 1732, Benjamin and Sarah migrated to Philadelphia, Pennsylvania. He moved, he lived in a cave, and you can actually see it in this image. You can see the stone facing of the cave. This is where he lived. He had a library of 200 volumes inside the cave. Even though he had very little education, he was a man who loved books. And in 1738, he wrote his own book called All Slave Keepers that Keep the Innocent in Bondage Apostates. That's probably not going to be easy to translate, Camilla. I have trained before, I've read, at least the introduction I've made. Even though he was a man who didn't receive much instruction, he loved books. And in 1738, he wrote his own book. Dal titular, in the image, All Slave Keepers that keep the Innocent in Bondage Apostates. Probably Camilla, that will not be easy to translate. So this book is many things, but one of the things it is about is Benjamin Lay's struggle with the wealthy Quaker slave owners. Because of this book, and also because he spattered the rich Quakers with blood, he was kicked out of the Quaker meeting. He continued to attend Quaker worship meetings, but he could not attend the business meetings, and he did this throughout his life until he died in 1759. Continuò a partecipare alle preghiere, quindi all'attività di culto dei Quakeri, ma non gli fu permesso di partecipare al commercio, al business, e fece questo continuare a seguire il culto con gli amici fino al 1759 quando morì. Ok, now I want to talk about the things in Benjamin Lay's life, the experiences that caused him to make this breakthrough in human thought denouncing the institution of slavery. Ora quindi parlerò delle cose nella vita di Benjamin Lay che hanno fatto di lui un abolizionista, le cose che l'hanno portato a pensare che bisognasse abolire la schiavitù completamente, immediatamente. Se pensate al radicalismo, al pensiero radicale di Benjamin Lay come una corda, un filo, è un filo composto di quattro parti, quattro altri fili. Il primo e più importante dei fili all'interno di questa corda era il quaccherismo radicale. Ora dobbiamo un attimino ritornare con la mente alla rivoluzione inglese degli anni 1650. Quanta. This was a battle of King Charles I against Parliament. The King was executed in 1649 and many radical groups grew up in this time period. Levelers, diggers, ranters and Quakers. Sorry, I may not know all the names in Italian of the later groups that you mentioned. Questo è il periodo in cui il re Carlo I condusse la sua battaglia contro il Parlamento inglese per poi venire condannato a morte e giustiziato nel 1649. Questo fu il periodo in cui vari gruppi, fra cui anche i quaccheri, presero forma e si attivarono. Pertanto i quaccheri avevano la propria loro origine nella rivoluzione e al tempo erano un gruppo molto radicale. Avevano un leader principale, una guida principale, il cui nome era George Fox, che è considerato essere uno dei fondatori del quaccherismo. Ma c'era anche un altro uomo, il cui nome era James Naylor, che già ai tempi era altrettanto importante e conosciuto quanto George Fox. So, George Fox represents the moderate version of quaccherism. James Naylor represents the radical kind of quaccherism. Benjamin Lay reaches back to James Naylor and that radical form of quaccherism because Lay basically does all of the things that Naylor did. Benjamin Lay, si rifece quindi a James Naylor e alla sua forma radicale di quaccherismo e Benjamin Lay fece esattamente tutte le cose che James Naylor aveva fatto. So, one of my points here is that George Fox tried to stamp out this radicalism represented by James Naylor. Quindi una delle cose che voglio far notare qui è che George Fox cercò di allontanare, togliere dalla scena il radicalismo promosso da James Naylor. Ma Benjamin Lay vuole continuare quel radicalismo perché crede che confrontarsi in modo assertivo e diretto con il male sia necessario. Benjamin Lay è in molti modi l'ultimo dei quaccheri radicali della rivoluzione inglese e il quaccherismo radicale è centrale alla sua visione del mondo. Quindi se il quaccherismo radicale è il primo filo che compone la corda di Benjamin Lay, il secondo filo, il secondo filone è il radicalismo marittimo che ha imbevuto il pensiero e l'azione di Benjamin Lay quando lui ha lavorato come marinaio per 12-14 anni. E Benjamin Lay, pur avendo lavorato in mare per 12-14 anni, si considerò sempre un comune marinaio. In questo periodo i marinai, il cui lavoro era fortemente pericoloso, avevano un alto livello di solidarietà. Benjamin Lay took that idea of solidarity and transferred it to other people off the ship who labored under difficult circumstances like slaves. Benjamin Lay said we must have solidarity for those people too. Benjamin Lay prese quelle idee di solidarietà e le trasferì verso altre categorie di persone che si trovavano a lottare con l'oppressione. Benjamin Lay diceva dobbiamo avere solidarietà anche verso gli schiavi. Ok, here I want to just tell you a little bit about the joys of research. Perché nel corso dei miei studi ho trovato un libro che era nella biblioteca di Benjamin Lay. E' un piccolo archivio in una città della Pennsylvania e quindi io sono arrivato con un grande entusiasmo, ho aperto il libro. E sulla prima pagina con una calligrafia marcata, coraggiosa, si legge questo libro appartiene a Benjamin Lay. What I discovered to my great happiness was that this was a book of very radical sermons from the English Revolution. Quello che ho scoperto per mio grande piacere è che questo era un libro di sermoni molto radicali dai tempi della rivoluzione inglese. E Benjamin Lay aveva scritto dei commenti delle annotazioni a fondo pagina, ai lati della pagina come vedete qui, in dialogo con il sermone radicale del libro. E qui in basso potete vedere che Benjamin Lay si autodefinisce a poor common sailor, un comune marinaio povero. Ok, so that's the second strand of rope, maritime radicalism. Quindi questo è il secondo filone. And then the third is what Benjamin learned in Bridgetown, Barbados, when he joined the struggle of African peoples against slavery. Quindi quello era il secondo filone di Benjamin Lay. E il terzo è dato da quello che Benjamin ha imparato a Bridgetown, nelle Barbados, quando si è unito alla lotta delle persone africane redotte in schiavitù. Benjamin and Sarah opened a little shop on the waterfront where they sold, you know, daily goods to artisans, sailors, but also to enslaved people who came into their shop all the time. Sorry, could you repeat the first three words, Benjamin? They opened a little shop on the waterfront. Benjamin opened a little shop on the waterfront. He was shocked to see that all of the enslaved people were hungry, were starving. They would faint and collapse on the floor of his shop. He saw them being whipped. He saw them being tortured. He saw them being executed. He was horrified by the reality of slavery and he saw, as abolitionists put it a little bit later, that sugar, which is the main commodity produced in Barbados, sugar is made with blood. Sugar is made with the blood of the exploited African workers. So Benjamin and Sarah see a human need and they try to fill it. They start feeding people on Sundays after church service and hundreds and hundreds of Africans show up for the food. Benjamin then begins to denounce slavery and, of course, the wealthy slave owners of Barbados hear about it and they start threatening. Benjamin and Sarah is threatening to banish him from the island. Benjamin and Sarah decide to return to England in 1720. But the experience of the struggles of enslaved Africans in Barbados is the third strand in the rope. So when Benjamin and Sarah move to Philadelphia in 1732, they discover that slavery is present there too. Although it's not as severe as in Barbados, although it's not as severe as in Barbados, but they also discover that Quakers own a lot of slaves. Half of the members of the Philadelphia Quaker meeting own slaves. Was it 1732? Yes, 1732. Yes, 1732. When Sarah and Benjamin are transferred to Philadelphia in 1732, they notice slavery. And even if slavery is not as severe as Barbados, they realize that many Quakers have slaves. circa metà dell'Assemblea dei Quakeri di Philadelphia include padroni di schiavi. So Benjamin is furious about slaveholding, but he also decides that he wants to live in a different way. He wants to separate himself from the corruption of capitalism. So he wants to live without exploitation of human beings and without exploitation of animals. So he wants to live without exploitation of human beings and without exploitation of animals. Now the source of these ideas was, I must say, very surprising. I didn't expect this, but Benjamin was very much influenced by an old school, a school of philosophy in ancient Greece, led by a man Diogenes in what was called the cynic philosophy. E' la fonte di questo modo di pensare mi ha sorpreso, non mi aspettavo di trovare questo, ma Benjamin, lei è stato influenzato da un'antica scuola filosofica dell'antica Grecia, guidata o identificata con Diogene, detto il cinico. L'idea a cui si rifacevano, in cui credevano i cinici e soprattutto Diogene, era che gli esseri umani dovessero rigettare i simboli della ricchezza, che la vita degli esseri umani dovessero essere condotta in armonia con la natura e che bisognasse dire la verità al potere, cioè parlare dalla parte della verità e della giustizia a chi detiene il potere. Benjamin decise di vivere secondo questi precetti, questi principi. Per questo si trasferì andò a vivere dentro a una caverna, fece il suo cibo da sé e produsse i suoi propri vestiti. E inoltre decise fu la prima persona a decidere di boicottare i beni prodotti col lavoro delle persone ridotte in schiavitù, così come lo zucchero, il caffè, il tabacco e il terzo. Ed era in realtà non solo un vegetariano ma addirittura un vegano, duecento anni prima che quel mondo venisse inventato. So, Benjamin wants to live a life of freedom that does not oppress other people. Quindi Benjamin vuole vivere una vita di libertà che non opprima le altre persone. He had this idea that is very common today as we think about global sweatshops that make expensive running shoes. Benjamin saw more than 200 years ago you must not participate in that or else you will be complicit with oppression. Quindi lui ebbe a quei tempi l'idea che oggi è più comune, per esempio degli sweatshop, dei laboratori in cui si lavora in condizioni disumane, dove si producono per pochissimi soldi al giorno costosissime scarpe da corsa. Lui ha visto tutto questo e ha detto non devi partecipare in questo sistema altrimenti sei complice di questo sfruttamento dell'oppressione. Quindi il quarto filone nel radicalismo di Benjamin Lay è questa filosofia dell'antica Grecia rappresentata da Diogene. E una delle grandi eredità di questa filosofia è che una persona giusta, fedele alla verità, sarà sempre intenzionata ad andare direttamente a dire dritta in faccia. alle persone ricche, alle persone ricche, la verità e alle persone potenti, la verità e la giustizia. Dovete sempre parlare, dire la verità e la giustizia al potere, così come Benjamin Lay fece con quei proprietari di schiavi, proprietari quaccheri di schiavi. Ok, quindi per concludere, questi sono i quattro filoni, quindi per concludere, questi sono i quattro filoni che si ritrovano nel pensiero e nell'azione di Benjamin Lay. Il quaccherismo radicale, la solidarietà marittima, navale fra marinai, le lotte degli afro, degli africani nelle Barbados e l'antica filosofia greca di Diogene. Io vedo Benjamin Lay come una figura dell'enlightenamento, ma è l'enlightenamento dell'enlightenamento dell'enlightenamento dell'ordine di lavorare, Pointez in me è un po' di un miglior urbanismo siaatico che se ho ottenuto dell'enlightenamento, ma di fenomeno dependenza all'enlightenamento. Lo è un po' di un po' di un po' di un po' di un miglior organismo, ma di un po' di un po' di un po' di stri esca, di un po' di un po' di un po' di un poverty e un po' di un po' di attesa. di stato o filosofi. Lui ha proposto un'altra via, un altro sentiero verso l'illuminismo. So briefly, let's turn to the second question, which is, why is Benjamin Lay so unknown? Quindi brevemente, andiamo alla seconda domanda, che è, perché Benjamin Lay è così sconosciuto? Prima di tutto, i Quakeri stessi meritano di essere incolpati, perché loro per primi l'hanno rinnegato e hanno cercato di silenziare, far tacere la sua voce. But it's also true that historians have played a major role in marginalizing Benjamin Lay because he was from the wrong class, he wasn't an enlightened gentleman, he had the wrong kind of body, he had the wrong kinds of methods. Too radical. Bah, è anche vero, però, che anche gli storici hanno avuto un ruolo importante nel marginalizzare la figura di Benjamin Lay, perché veniva dalla classe sbagliata, non era un gentiluomo di classe alta e illuminato, aveva il corpo sbagliato e i metodi sbagliati. Era troppo radicale. E sono molto felice di dirvi ora che questo silenzio, che è durato tanto a lungo, è finito, è stato rotto, perché tutte e quattro le assemblee, che avevano ostracizzato, espulso Benjamin Lay, l'hanno riconosciuto e riabilitato. And then sometimes surprising things happen. Many people in Italy will not know, but City Hall, the main building of city government in Philadelphia, has on top of it a statue of William Penn, the Quaker for whom Pennsylvania is named. E a volte succedono cose sorprendenti. Forse in Italia non tutti sanno che sopra al municipio, in cima al municipio di Philadelphia, c'è la statua del Quaker William Penn, di William Penn, da cui la Pennsylvania ha preso il suo nome. Il problema è che William Penn era un proprietario di schifo. Quindi è stato formato un nuovo gruppo a Philadelphia, il cui nome è la società Benjamin Lay. Io non ho nulla a che fare con loro, però amo quello che stanno facendo e hanno una richiesta, una cosa che esigono. Vogliono mettere, vogliono che sia posta la statua di Benjamin Lay sulla cima del municipio di Philadelphia, così che prenda il posto di quella di William Penn. Camilla, come... Camilla, come do you translate woke? Woke... As in politically aware. It's a common phrase in the U.S. now, woke. Woke. Is it a verb? Scusate, sto cercando di capire come tradurle. No, it's a noun. Is it like awakening, or is it different? Yes, it is. Okay. Sì, un risveglio. Mi chiedeva come si traduce in italiano, woke, un risveglio, un diventare coscienti politicamente, attivarsi politicamente nel pensiero. And so my final point is this. Benjamin Lay is a radical for our times. And my final words are to thank Camilla for this translation. Quindi il mio pensiero finale è questo, che Benjamin Lay è un radicale nei nostri tempi. Ancora nei nostri tempi è una figura radicale e vorrei ringraziare Camilla per la traduzione. I thank you for this honor and for your incredible work. I started reading the book and it's fantastic. Vorrei ringraziare il professor Rediker per questa opportunità e per il suo lavoro. Se alcune idee non l'ha fatto consiglio caldamente il libro è veramente fantastico. Io ringrazio Camilla perché fare questo lavoro di traduzione è tutt'altro che semplice, anzi è molto complicato. È stata magnifica. E dico che semplicemente se adesso ci sono commenti, domande, considerazioni, penso che il professor Rediker le accetterà volentieri. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Se è così, semplicemente apre il microfono e la telecamera, se vuole, anche in italiano, si intende, poi traduciamo. So now Stefano, open the ground for questions from the audience. If anybody wants to present a question in English or Italian, if needed, we translate. Vedo Alessandro Lega, credo. Prego. Buon pomeriggio. Buongiorno, professore. Lei ci ha presentato una situazione di qualche secolo fa che in qualche modo vede qualche strascico anche ai giorni nostri. Però non ha toccato minimamente gli aspetti della schiavitù in Europa. Se non sbaglio, nel periodo 1650 in avanti, i tre paesi europei particolarmente impegnati nel traffico delle nuove colonie, quindi Olanda, Inghilterra e Francia, iniziarono a... introdussero la schiavitù in Europa. Credo che addirittura, se non ricordo male, la regina Elisabetta I divenne un'azionista di uno dei gruppi più attivi nello scambio della schiavitù. Grazie mille. Posso tradurre? Grazie. Grazie mille. Posso tradurre? Grazie. Alessandro Leggo would like to thank you, Professor Rediker. And he says, you have presented us with a situation which is from a few hundreds of years back and from which we can see still the signs today. And it's a reality still today for some aspects. Anyway, I feel you didn't touch on slavery in the European region, in Europe. And if I'm not wrong, from 1650s onward, especially three countries in Europe were very much involved into the traffic, the business of colonies. And these were the Netherlands, England and France, and these countries produced slavery in Europe. I remember even Elisabetta I joining a business of one of the major groups trafficking in slaves. Could you say something about this? How do you see this? If I can, I would like to add one point. Actually, the Calvinism was the trigger of this movement, if I remember well. Credo che il calvinismo abbia avuto un ruolo importante, in particolare nei tre paesi mencionati. Thank you. Thank you, Alessandro, for this good question. It is absolutely true that the maritime states of Northwest Europe built the Atlantic slave system. In other words, what Benjamin Lay saw in Barbados and in Philadelphia was inconceivable without the massive wealth that was created by the slave trade and the institution of slavery. And it is absolutely important to understand that the people who created this system were in places like Amsterdam and London and Paris, very far away from West Africa, very far away from Barbados. But this, in my mind, makes someone like Benjamin Lay all the more important, because what he was going up against was an economic structure of tremendous power. I'm sorry, Camilla, I got carried away and didn't give you a chance to translate. I'm sorry. It's super fun. If you'd like to add something, I'm taking notes. So, I will manage this. Okay. Allora, in risposta al commento e alla domanda di Alessandro, il professor Rediker dice è assolutamente vero che questi paesi che Alessandro ha menzionato hanno costruito, hanno contribuito largamente al traffico di schiavi e alla colonizzazione in Europa. quello che c'è, che Benjamin Lay ha visto nelle Barbados sarebbe stato inconcepibile senza la produzione di ricchezza, l'enorme sistema di produzione di ricchezza per pochi che avevano iniziato questi paesi europei. Le persone che hanno creato il sistema di schiavitù erano, si trovavano ad Amsterdam, a Londra, a Parigi, molto lontano dall'Africa occidentale e dalle Barbados. Per questo Benjamin Lay è particolarmente importante, perché schierandosi contro la schiavitù, lui si è schierato contro un intero, un'enorme struttura economica di sfruttamento. Benjamin Lay's experience as a sailor helped him to understand that Atlantic system. E l'esperienza di Benjamin Lay come marinaio l'ha aiutato a capire meglio l'esperienza atlantica e della schiavitù. E anche se lui stesso non aveva mai navigato su una nave, come si dice, che porta schiavi, dei suoi compagni marinai l'avevano fatto, avevano avuto queste spazio. E questo lo portò a denunciare, a dire in faccia ai mercanti quaccheri che erano coinvolti nel traffico di schiavi, voi siete degli omicidi, degli assassini. He knew that 10 to 15 to 20 percent of the people who were loaded onto slave ships in West Africa died during what they call the middle passage and their bodies were thrown over the side of the ship to sharks that followed them all the way across the Atlantic. Benjamin knew this. E Benjamin sapeva tutto questo, sapeva che il 10, 15, anche il 20 percent di tutte le persone che erano ridotte in schiavitù e viaggiavano sulle navi che trasportavano gli schiavi, morivano nel cosiddetto passaggio di mezzo, middle passage, scusate che non so esattamente come si dice in italiano, e che i loro corpi venivano poi dati in pasto, gettati dalla nave, dati in pasto agli schiavi che accompagnavano sempre questa nave. So, the second part of your question, Alessandro, Calvinism is actually very important to the religious radicalism of the Quakers and some others, even though they rejected certain parts of it. with this idea that some people were what they called the elect, meaning God's chosen people, becomes part of the Quaker resistance to the rule of rich men. E per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, Alessandro, quella sul calvinismo, il calvinismo è stato molto importante per il quakerismo e per il quakerismo, sì, per la religione quackera. Alcune persone, anche se i quakeri hanno scelto alcuni elementi del calvinismo, non l'hanno accettato in toto, alcune persone si consideravano elette, scelte da Dio. Grazie mille per le domande. Grazie. Salve, ho una domanda. Posso? Prego, certo. Ok, salve. Io mi chiedevo, sono molto curiosa perché, Benjamin Lay, allora, prima del suo intervento all'Assemblea, dei quakeri nel 1738, lui non aveva mai parlato delle sue idee con qualcuno, cioè era comunque isolato nel suo radicalismo o cercava di far cambiare idea, comunque di parlarne con gli altri quakeri, cioè avere un confronto al di là appunto del suo intervento all'Assemblea e se prima di questo intervento aveva già cercato di fare qualcosa e se appunto nel suo percorso era da solo oltre alla moglie che l'ha accompagnato da quel che ho capito per tutta la vita. Grazie. So, hello, I would like to ask a question, because I'm very curious about whether Benjamin Lay, before his intervention at the meeting in 1738, had he ever, before that, spoken to other people about his beliefs and his ideas? Had he, was he isolated in his radicalism or had he tried to convince other people? Had he looked for exchanges beyond this intervention that he made? and yeah, had he already tried to do something about anti-slavery before his intervention at the, at the meeting? And was he alone in his path or was there someone else in addition to his wife whom we understood was on, on this journey with him all the time? Yes, Benjamin became an abolitionist in 1718, that's by his own self-description, that in 1718 in Barbados he became a mortal opponent of slavery. So when he arrived in Philadelphia in 1732, he was already fully committed to the abolition of slavery. He talked to people about it all the time and a lot of poor Quakers agreed with him. Lui parlava di questa cosa agli altri Quakeri e un sacco di gente tutto il tempo e molti Quakeri poveri delle classi più basse erano d'accordo con lui. But the wealthy Quakers were the ones who had the most influence in the Quaker meeting and they had huge influence in the government of Pennsylvania. They were the most powerful people in the entire colony. Benjamin saw that his fellow, many of the poorer Quakers, were afraid to speak out. So one reason he wrote the book was to encourage them to join him in denouncing slavery in public. So even though Benjamin Lay was disowned, he still won the long-term battle against slavery. In 1758, the same meeting that had kicked him out basically made the decision that Quakers could no longer participate in the slave trade. And when Benjamin got this news, it was just a year before his death, he was so happy because he knew this was the first step among the Quakers towards abolishing it. It took another 17 years, and Benjamin was deceased by this time. But in 1776, the Quakers became the first religious group to say, you cannot be a member of our nation. So the power of Benjamin Lay's ideas was so great that he eventually convinced his enemies. Well, hi Marcus. So my question is about the connection between Benjamin Lay and Benjamin. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. The idea when, before this book, I always teach to my students that was Benjamin Franklin. That say first, that the Quakers must abolish a slave. But for some reason, maybe also economic, maybe also close to the idea of the American capitalism. che i lavoratori dei slaves non sono interessanti per gli americani non sono interessanti in questo tipo di creazione di obiettivi, speciali invenzione. La parte del mio intervento è che allarge gli studenti il floor. I ho parlato prima di una cosa, che sono leggere il tuo libro, e quindi sono studiando il tuo libro, e hanno cercato di invertire questa idea of the importance of Christopher Columbus as well as this William Band and all these statues that people are trying to rethink today. That is all. Thank you again. Thank you, Marco. Very good question and comment. As one would expect from a distinguished historian. Benjamin Lay's relationship with Benjamin Franklin is very important. And in fact, Benjamin Franklin published Benjamin Lay's book. But I'll just go back to it, back to the title page. Marco will know, other people may not, that when a printer in the 18th century published a book, they always put their name at the bottom. But you'll notice that Benjamin Franklin did not put his name on this book because he knew that it was going to cause great controversy and he didn't want to lose the printing business of these wealthy Quaker legislators. Okay? So I asked myself, were these two people friends? I think that most people thought they were. But Benjamin Franklin was a slave owner. It's true. He was not a plantation owner, but he did own enslaved people who worked in his household. And I'm sorry, I forgot about the translation. I'll stop right there. Go ahead, Camilla. I'm sorry. No, no, no. Please, you may continue because I'm taking notes and I could translate both Marco's questions quickly. So we'll translate both the question of Marco or if Marco wants to translate it all the same and then the answer to Professor Rediker. A breve. Please continue. Well, maybe you'll say what I just said about the title page, that Benjamin Lay was the publisher but discreetly left his own name off. Professor Marco Sioli vuole che traduca io vuole dire lei in italiano la domanda che ha presentato? I'm sorry? No, I'm asking. Marco Sioli. La domanda in italiano era appunto più che una domanda una constatazione di profonda tristezza perché prima del libro di Marcus io ho sempre insegnato agli studenti che era Benjamin Franklin a dire ai quaccheri o quantomeno a concettualizzare ai quaccheri l'importanza di dire no alla schiavitù anche per ragioni economiche anche per ragioni di sviluppo capitalistico. Il lavoro schiavile non poteva essere utile a quello che si stava sviluppando all'epoca appunto nelle colonie americane quindi l'importanza dello stesso marinaio ma poi anche di colui che costruiva le cose quindi le inventava. Questo è tutto un mondo di invenzioni lo schiavo non è così interessato a inventare le cose. E chiaramente poi volevo allargare il flora ai miei studenti che stanno leggendo il libro di Marcus e quindi correggono l'errore iniziale quello mio che adesso chiaramente insegnerò la storia americana con un attimo più di conoscenza di quello che realmente è accaduto. Grandissimo. Posso tradurre la risposta del professor Rediker ha detto la relazione fra Benjamin Lay e Benjamin Franklin era molto importante è stata centrale perché? Perché Benjamin Franklin con la sua impresa la sua stamperia ha stampato ha pubblicato il libro di Benjamin Lay come vedete qui dalla slide di solito quando lo stampatore pubblica un libro mette sempre il proprio nome alla fine della pagina del titolo ma in questo caso Benjamin Franklin non lo fece perché Benjamin Franklin sapeva che il libro di Lay avrebbe scatenato una grande controversia e aveva paura di perdere la sua impresa di stamperia quindi io mi chiedo erano amici Benjamin Lay e Benjamin Franklin perché bisogna anche ricordare che Benjamin Franklin possedeva degli schiavi non era una padrone di schiavi di piantagioni quindi di un sistema del genere però aveva delle persone che erano schiavizzate che si prendevano cura della sua casa questo portrait of Benjamin Lay which is highly unusual came down to us because of Benjamin Franklin his wife Deborah Franklin commissioned a local artist to paint this as a gift for her husband Benjamin Franklin because I think she knew that Benjamin Lay was going to be a famous person quindi questo ritratto che è fra l'altro molto particolare e inusuale è arrivato fino a noi perché è arrivato noi ce l'abbiamo perché Deborah Franklin la moglie di Benjamin Franklin ha chiesto a un amico pittore di fare questo ritratto a Benjamin Lay come dono come dono per suo perché come dono per Benjamin Franklin was it a gift for her husband Benjamin Franklin yes quindi confermo come dono per suo marito Benjamin Franklin perché secondo il professor Rediker Deborah Franklin sapeva che Benjamin Lay sarebbe diventata una persona molto famosa molto illustre and and I think the the last point I would make is that Benjamin Franklin later in his life when he became involved with the Pennsylvania anti-slavery society boasted about the fact that he published Benjamin Lay's book even though he wouldn't put his name and one comment quickly about what Marco said regarding the intense battle going on right now about statues in the United States this is a this is a really interesting moment for history from below e vorrei fare un commento su quello che Marco Sioli ha accennato riguardo alla attuale battaglia che c'è in corso negli Stati Uniti riguardo alle statue questo è un momento molto interessante di storia dal basso perché la storia che hanno fatto radical historians have done over the last 50 years è closely linked to the critique of these public monuments perché la storia che hanno fatto gli storici radicali negli ultimi 50 anni è fortemente legata a questa critica delle statue dei monumenti quindi decisamente vorrei raccomandare di sostituire le statue di alcuni generali confederati con la statue di Benjamin Lay vorrei anche invitare gli studenti del professor Marco Sioli a presentare delle domande se sono online e se vogliono fare c'era Marco Cagliari non so se è uno studente ma aveva chiesto nella chat di presentare una domanda Si si prego signor Caligari se vuole Scusate Caligari Si non sono più studente Thank you very much to Marcos Reidecker to Camilla Marrucco for her job Le mie domande sono inerenti a Maritime Radicalismo in particolare vorrei chiedere un approfondimento sulle connessioni che hanno collegato le Barbatos ad altri porti e l'influenza di alcuni marinai di alcuni attivisti del Maritime Radicalismo nel protagonista del libro Grazie scusami che ho detto il tuo nome in modo sbagliato Caligari Ok I would like to thank Professor Rediker very much for his work and Camilla also my question is about I would like to know more about this Maritime Radicalism if you could kindly open up a bit more the connections between the Barbados and other harbors and other port cities and what influence if you could tell us more about this influence that the sailors had on radicalism in Benjamin Lake as Marco may know this is a big theme in a book that Peter Linebaugh and I wrote called The Many-Headed Hydra What's the name of the book excuse me I think in Italy it's published by Feltrinelli and it's called The Rebels of the Atlantic Okay this is a theme that an author of which Marco probably knows the name I Rebelli of the Atlantic is published in Italy the volume that Marco your microphone is silenzioso Yes the title is I Rebelli of the Atlantic and the author is Peter Leibow and I have seen at the beginning a great story that has been confronted Can you translate that for me Camilo what Marco Scioli just said Exactly so yes the book that you that you referred to is translated in Italian the title as I Rebelli dell'Atlantico and it's this book that Marcus Radiker wrote with Peter Linebaugh and it's a book that he has recommended if I understood to write or he's mentioned before earlier in this conversation just before we start it's 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 a fantastic book I studied in deep this book and it's been translated in italy and published by Feltrinelli so so let me just mention that that book and several other books that I've written emphasize the fact that sailors were on the cutting edge of new relations between capital and labor and were therefore especially rebellious in the early modern era quindi dicendo questo vorrei enfatizzare sottolineare che ai tempi i marinai erano come dire all'avanguardia erano una nuova posizione nella relazione fra capitale e lavoro ed erano particolarmente erano lì per essere ribelli per insomma erano in un ruolo fortemente potenzialmente sovversivo if I got it right for example in 1768 sailors in London invented what became known as the strike because they went around to ships taking down the sails of the vessels which is called to strike the sails per capirci per esempio nel 1768 in Inghilterra furono i marinai che inventarono the strike cioè lo sciopero la parola strike derivava proprio da questa vela che veniva tirata giù abbassata così che fosse impossibile per la nave salvare navigare and one last point for Marco Caligari a lot of the work that I've been doing lately and what I'm doing right now is on the relationships among sailors dock workers and enslaved people in the ports in the 19th century which is one of the main way that fugitive slaves escaped bondage excuse me the relationship between slaves owners dock workers and slaves dock workers ok scusate un ultimo punto che vorrei fare per Marco Caligari è che tanto del lavoro che ho fatto negli ultimi tempi e su cui mi concentro al momento è proprio sulle relazioni fra marinai lavoratori lavoratori del doca il molo del porto e schiavi nel diciannovesimo secolo perché questa relazione è stata centrale poi alla liberazione emancipazione anche fuga delle persone ridotte in schiavitù e one of the ideas there this is my last point is that port cities all tended to have the same kind of multi ethnic multiracial working class e un'altra cosa importante questo è l'ultimo punto che vorrei fare l'ultima cosa importante che vorrei dire è che tutte le città di porto tendevano ad avere questa classe operaia multiraziale e multietnica thank you a lot grazie mille any students out there who want to ask sono studenti che vogliono porre altre domande salve buonasera ho alzato la mano non so se l'avete visto se mi sentite prego prego grazie ho una domanda riguardo alla figura fisica di benjamin lei ha accennato la sua condizione di inanismo volevo chiedere al professore se crede che anche questa sua diversità questo suo sentirsi diverso dal punto di vista fisico rispetto alla società abbia contribuito al suo ampliarsi di vedute diciamo perché ritengo che l'essere diverso appunto fisicamente all'interno di un ambiente che non ti considera normale in quotes è giusto ti porta a vedere l'effettiva inesistenza di una diversità se non socialmente costruita volevo chiedere se ci sono testimonianze al riguardo e che cosa ne pensa il professore so I would like to ask a question about the physical appearance figure of benjamin lei you mentioned the fact that he was a dwarf and I wanted to ask you are there any testimonies about the fact that this experience of being different of being treated as not normal and not right did it influence the broadening of his views about human solidarity because I believe that the fact that you're positioned as different may influence in that sense thank you excellent question I'm sorry I didn't say more about it in the presentation we don't have a lot of evidence to go on but we do know that benjamin himself was ridiculed for his size he talks about this in his autobiography but to give you an idea of his confidence ok I'll stop there thank you so much è una domanda veramente molto ottima una domanda ottima e mi dispiace non aver detto di più al riguardo non abbiamo molte prove diciamo di questa cosa della sua condizione fisica di come l'abbia vissuta però sappiamo che benjamin lei è stato deriso per la sua condizione fisica e questa è una cosa che sappiamo dalla sua autobiografia mi fermo qui he says they make fun of me for being little but little David slew Goliath benjamin lei disse si prendono il gioco di me perché sono piccolo ma il piccolo Davide ha fatto capitolare il gigante Golia and I he said will kill the Goliath of slavery e io lui disse ucciderò il Golia della schiavitù he did not lack confidence in his ideas ho dimenticato di tradurre ecco che per dare un'idea della sua fiducia in se stessa non gli mancava il credere nelle sue idee la fiducia nelle sue idee so there's no doubt in my mind that the the discrimination the mocking the struggle that benjamin had to engage to be treated as an equal every day of his life was really important to his view of slavery quindi io non ho assolutamente nessun dubbio nel mio cuore che che tutta la discriminazione l'essere preso in giro ed eriso tutte le lotte che lui ogni giorno ha dovuto condurre benjamin lay per essere trattato come persona uguale non ho dubbi che queste esperienze abbiano avuto un ruolo importante nel fare di lui una persona che combatteva la schiavitù I think he really strongly identified with enslaved people and I think his body and his experience of being a little person had a lot to do with that io credo proprio che lui si sia identificato molto con le persone ridotte in schiavitù e che il suo corpo e la sua esperienza vissuta abbiano avuto molto a che fare molto molta influenza su questo grazie mille thank you very much vedo che sono le 19.30 però se ci sono altre domande non ci sono problemi per cui se c'è qualcuno che vuole parlare intervenga pure buonasera prego buonasera io volevo chiedere che cosa pensavo invece di altri gruppi che venivano esclusi ad esempio le donne o altre minoranze gli indigeni indiani americani sull'isipensava semplicemente agli schiavi portati dall'africa o si concentrava anche su tutti gli altri yes I would have a question what did Benjamin Lay think of all other groups who are marginalized for example women other people who are minoritized indigenous people or was it mostly focused on people made into slaves coming from Africa taken from Africa yeah you know it's a really important question we don't know what Benjamin thought about indigenous people but he was very proud of the fact that the Quaker treaty with the Lenny Lenape people was the only treaty ever made that wasn't broken we also know that one of his protégés played a significant part among the Quakers in trying to protect indigenous people from those who wanted to take their land sappiamo anche che uno dei protégé dei protetti di Benjamin Lay giocò un ruolo fondamentale fra i Quakeri per proteggere gli indigeni e fare sì che la loro terra non venisse strappata a loro Benjamin Lay definitely believed in gender equality Quakers in general were quite good on this subject but Benjamin says quite explicitly men and women are equal and sometimes to disrupt the hierarchy of the Quaker meeting he would sit in the women's section so Benjamin Lay was a class conscious Benjamin Lay was a class conscious gender conscious vegetarian who was also very concerned with the environment Quindi Benjamin Lay era una persona con coscienza di classe, coscienza di razza, coscienza di genere, era un vegetariano ed era preoccupato e interessato alle questioni ambientali Quindi per rispondere a quella domanda nel modo più preciso che posso Benjamin Lay aveva una visione radicale del mondo completamente integrata E credo che la maggior parte o molta gente creda che una tale combinazione di idee sia stata possibile nel mondo soltanto dopo gli anni anni settanta del ventesimo secolo Quindi tu hai qualcuno con quella combinazione di idee duecentocinquant'anni prima degli anni settanta Quindi tu hai qualcuno con quella combinazione di idee duecentocinquant'anni prima degli anni settanta Se non ci sono altre domande da parte di studenti che hanno la precedenza, io vorrei ringraziare moltissimo professor Larkus per questo lavoro che ha fatto Mi ha colpito molto quest'uomo comune con una visione più umana e lungimirante Mi ha colpito molto il professore che dice per me è un'espressione di illuminismo dal basso Lo ringrazio infinitamente, lo ringrazio alla Semina Gli amici della Semina leggeranno questo libro e aspettiamo dal professor Marcos di avere al più presto la fotografia del municipio di Filadelfia con la statua Grazie mille 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 below. I would like to thank you again on behalf of also of the Semina Association. All our friends or our friends will read your book and we really wait look forward to receiving from you the picture of the Philadelphia City Hall with Benjamin Lay's statue upon it on top. I look forward to that moment too. Thank you Pierangelo. Anch'io aspetto con trepidazione quel momento. Grazie Pierangelo. Se qualcuno ha la mano alzata ma non si vede, prendete la parola o scrivete nella chat. If someone has their hand raised but we cannot see it apparently, please just speak or write in the chat. I think we have exhausted all the questions maybe. Ok Camilla is going to translate again. Caro Professor Radiker, è stato un vero onore averla, è stato un piacere, è una conferenza stupenda, interessante. Spero che possa, come dire, essere ancora nostro ospite in futuro. So che sta studiando l'italiano con grande impegno e quindi la prossima volta sarà in italiano. Vediamo se Camilla traduce correttamente. Parola del mio meglio. So thank you so much dear Professor Radiker, it's been such a honor and such a pleasure to have you as our in our conference series and this was such a wonderful conference and extremely interest. We really hope that you would like to be again our guest in the future and because we've heard that you're studying Italian so we support that and we know that the next conference will be in Italian. Thank you Stefano. Grazie Stefano. Thank you to everybody. Grazie a tutti e seguitice ancora con i prossimi appuntamenti della Semina. Salute a tutti. Thank you. Grazie Marcus, a presto. Ciao ciao.